Dopo la copiosa nevicata iniziata nella tarda serata di ieri, difficoltà per il trasporto pubblico, anche per il trasporto pubblico locale su gomma, abbiamo qui gli autisti dell'azienda Contram. Com'era la situazione questa mattina, Andrea Brandi? Ovviamente era critica perché l'allerta medio in effetti c'era, quindi era una situazione abbastanza critica, però poi nello svolgersi delle ore lavorative è migliorata e tutto sommato siamo rientrati nei tempi di percorrenza. Diciamo che eravate già stati allertati nella giornata di ieri, quindi questa mattina un'alzata presto per montare le catene sui mezzi e permettere che tutto si sia svolto nella massima regolarità. Ovviamente il nostro lavoro è questo, quindi non possiamo far finta di niente, quando c'è l'allerta medio ci dobbiamo tempestivamente attivare. Presidente Stefano Belardinelli, la situazione sulle principali alterie, i collegamenti con Camerino, Macerata, San Severino, come erano questa mattina? Qui nella zona più montana la neve ha coperto le strade, certamente il fatto che Trenitalia, quindi la ferrovia, chiude alcune linee o le sospenda e noi interveniamo ovviamente come autobus sostitutivi, mette in difficoltà l'utenza, quindi diciamo non tanto chi sale in autobus ma chi è costretto a cambiare mezzo. Anche lì a Macerata, al terminal di Piazza Pizzarello, noi abbiamo costantemente monitorato direttamente lo stato del piazzale. Questa mattina nell'orario di maggiore afflusso c'era un centimero di neve e si vedeva l'asfalto, quindi sostanzialmente non c'era nessun problema. Diciamo da parte nostra, quindi i mezzi sono usciti da tutte le sedi maggiori, da Treglia, da Corridonia, da Fabriano e anche da Camerino. Abbiamo continuato a fare le corse per Roma, quindi la corsa per Roma che questa mattina è partita presto e ha fatto il passo di Corfiorito, dove siamo sui 900 metri, ha viaggiato regolarmente. Quindi io mi ritengo abbastanza soddisfatto, per questo ringrazio tutti gli operatori della Contram Mobilità, quindi sia della Contram di Camerino ma anche delle aziende affiliate, perché ancora una volta hanno dimostrato che l'autobus funziona in ogni condizione meteo e è vicino alla gente. Poi è chiaro che se troviamo un mezzo, come si dice, intraversato per strada e l'autobus è costretto a fermarsi, le corse vanno in ritardo anche di diversi minuti, ma questo è un discorso di sicurezza, di ordine pubblico, di sicurezza stradale, quindi noi dobbiamo rispettare la circolazione.